No, wait, hang on, I know what I need, I need, I need, I need Fishfingers and Custard. E su questo, su questa immagine ci spostiamo? Vabbè, sai che non è stata una grande idea. Vabbè, l'ha fatto Charlie. Vabbè, Fishfingers and Custard. Vabbè, quanto potrà essere tremendo, cioè Fishfingers è buono, a Custard è buona. Sai che non è male? No, no, guarda, forse tu non le hai mai provate, ma le patatine nel gelato di McDonald's le hai assaggiate? Fa quello stesso, fa, guarda, a me piace. Però Charlie ha detto uguale, dice che il problema è alla fine del secondo Fishfingers. C'è anche da dire che la Custard è la prima che se ne va, diciamo nel bouquet dei sapori. No, no, guarda, non fa schifo. Sei alla fine del secondo, come va? Magari bevo, un attimo. Charlie aveva ragione. Non so che cosa succede. È caduta molto questa bottiglia, sì? Cosa succede in fondo? Alla fine del secondo, il pesce catches up with you somehow. Ma aspetta, non mi dichiarerò sconfitta ancora. Buonissimo. Guarda, secondo me... Charlie a quanti è arrivato? Ha finito il pacchetto. Tutti e dodici? Non tutti i pucciati nella cassa. Col fatto che non sono due sapori fatti per mischiarsi, they just don't. Quindi... No, comunque non c'è male. Buono. Io lo consiglio. Devo mangiarne ancora? No, posso così. Vuoi salutare? No, secondo me è stato un esperimento molto molto di successo. Secondo me può essere già un esempio della mia dedizione. Non credo che sarei in grado di fare video dedicati, quindi questo è il mio contributo. Ciao!